Ciao a tutti, mamma abbassava la voce per il piacere, sto registrando, ciao a tutti ragazzi e benvenuti su FANASTA FRADISTUE ragazzi faremo questo video, quanto questo video, ovviamente se non si sa per capire se è la demo oppure il gioco originale questo è il gioco originale, vedete io, i toy, odio i toy, i toy sono l'unico, allora questa è la prima notte quindi non fateci caso ma i toy mi attaccherò, non ce l'hanno da attaccare, non bene, dove si deve, allora, so come si gioca allora, allora, andiamo a vedere poi le telecamere, allora, vedete anche qua conosco tutti i personaggi, quindi non spiegatemi vanno molti le mani da, va bene, vengo al prossimo simono per la prima notte allora, i tuoi freddy, i tuoi chicati, i tuoi buoni si muovono, i puppet, i puppet, questo sì che è la scatola ah no ma no, ah no, non dovremmo finire questa notte, questa notte la farò con voi perchè io voglio fare youtube con voi perchè, io voglio parlare, allora perchè voglio parlare con voi sempre questo è perchè, perchè voi siete tutti rapidi, io ho aperto questo canale già da 10, no, io tengo 10 anni non so capito, perchè la devo scrivere, non si muore, aspetta, io sarei su puppet perchè, ovviamente il personaggio, quando sto freddy, non mi è molto lunapp tutta da 10 anni ced Open�을 raggiungo, e non mi è impossibile, almeno usasse tornare con voi, la notte che sto andando facendo lo scatola di Ge exercising ho fatto tutto no, 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 no-no, no no, no, no-no, no, no no, no, no-no-no, no no, aspetta.. scusate, ma... perché dom la metto? no! questa te la notte dove si vedano tutti i pantli? no, la notte che si veniva tutti tutti i pantli, è la fita no perché c'è un foglio di golden reddi telecamere telecamere sì meglio che non è stato facendo che parti allora boni sta sempre lì qui sono arrivati le due di mattina no le due di mattina no le due di mattina no le due di mattina aiana mano stop forse arriverai fino a teri mattina quindi ragazzi non so ma ragazzi il tuo buon è rimasto qui no sono caro non t'azzardare sai non t'azzardare non uscire perfetto non so che vuole avvicinare questo? no questo è gameplay non è la demo pure è il gioco originale quindi ringraziati molto perché non sarà la demo mamma ti chiamano a telefono e me non posso impegnare lo sapevo lo sapevo che rispita insomma vabbè tu rimedi qui vado in voi diciamo questa cosa secondo me quindi non devo preoccupare a chi ha nessun interesse a chi ha nessun interesse vado in voi che bella amicizia ti raccomando tu dove dove sei che è nessun interesse che è nessun interesse sento rumori brutti vuol dire che qui ci stanno avvicinando? si o si altro? no è arrivata tua chica è arrivata tua chica il puppet non mi credo che tua chica mi ha toccato ora ma ciao si non vuoi il cupcake grazie si chiama la confession sono freddi se ne va lo posso andare con te sono cilla chico chico ma ciao ma come va buonasera si sedia buonasera ragazzi tengo tuoi boni nei condotti così filtri andate no è andato tu tu battene ma posso andare fuori perché so che oggi dovrà essere giù stacolta oh quindi così si 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 stacolta 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 oppure e oppure la seconda notte stacolta 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 ragazzi